buongiorno anzi buonasera buonasera a tutti benvenuti a questa nuova diretta di bridges of life con con me nicoletta parleremo di quello che sono le vite precedenti dunque ho avuto modo di inviarvi questo post vi ringrazio eravate veramente tantissimi più del 200 mi avete risposto indicandomi le vostre foto e da lì poi siamo riusciti a ad avere diciamo questi bei flashback che poi ci si presenteranno qui in questa diretta visto che siete stati veramente in tantissimi che avete voluto così conoscere un pochettino le vostre vite precedenti ho deciso anche di proporlo mercoledì prossimo prossimo questo che viene la stessa cosa quindi ecco diciamo che riusciamo poi a dare una risposta anche a tutte le persone che hanno chiesto di avere questo flashback ma che poi non sono riusciti ad avere una risposta ma perché mi ripeto siete veramente tantissimi quindi non è sempre facile anche per me poi tutto quindi direi che possiamo fra un pochettino due minuti ancora iniziare siete circa circa siete una quarantina di persone a cui ho dato l'esito l'esito come viene ovviamente per i flashback delle vite precedenti io lo dico tutte le volte giustamente anche per chi non mi conosce viene fatto così io guardo la vostra foto che viene un guardato un po' random quindi scelgo scelgo una parola grossa più che altro sono quelle che riesco meglio così in foto e vedere no quindi guardo le vostre foto e e poi ho questi flash molto veloce ovviamente perché nel per messaggio è già molto molto difficile no quindi ho questi flash di queste vostra di questa vostra vita precedente per alcuni vi anticipo già che può essere molto lungo questo flash peraltro invece brevissimo ecco quindi va molto ad persona ma quello che io valuterò stasera noi parliamo delle vite precedenti della biffi e parliamo delle vite precedenti sulla base di flashback che ho avuto in virtù delle foto che mi avete inviato in un post che ho messo settimana scorsa essendo che siete stati in tantissimi ho dovuto prenderne solamente 40 per poter ecco andare incontro un attimino a tutti buonasera nina ecco che farò la stessa cosa anche per mercoledì questo che viene quindi io già domani metterò nuovamente un post e in questo post vi chiedo se volete di rispondermi con la vostra foto e la vostra data di nascita e in questa maniera ecco se poi venite tra virgolette sorteggiati mercoledì poi vi do l'esito in questa diretta una cosa molto importante perché giustamente per venire incontro un pochettino di più a tutti io guarderò una foto sola per un unico profilo e non valuterò chi invece mi chiede per figli parenti genitori fratelli sorelle perché altrimenti non non ne veniamo fuori cioè se non vado sempre a dare risposta a un'unica persona per tutta la famiglia eventualmente se proprio siete curiosi di sapere per voi oppure per la vostra famiglia o amici parenti eccetera eccetera è possibile contattarmi in privato e sapere quale possono essere le modalità per avere un consulto privato ecco perché qua invece il tempo giustamente è a vostra disposizione però una persona per vita e credo che sia più che sufficiente poi concorderete anche voi bene signori allora adesso noi iniziamo visto che siete già in tentrotto quindi dovreste essere più o meno una quarantina di persone di 200 che eravate quindi abbiamo fatto una grande grandissima scrimatura e iniziamo con questa diretta ora andrò a parlare molto molto velocemente perché 40 persone fino alle 19 non è facilissimo da da fare no quindi vedrete che parlerò molto molto velocemente l'importante che voi mi sentite bene quindi se mi date una conferma poi per quanto riguarda un flashback scusate un feedback di queste vite passate potete sicuramente darmelo in risposta a questa nostra chat e non su messenger che lo utilizziamo di solito per la private per il privato ecco bene iniziamo siete tutti pronti perfetto allora andiamo dalla prima che è Renata Morri allora Renata Morri ho visto che eri una donna che era sempre veramente non riusciva a capire come mai che stavi così immobile no in questo flash che ho avuto della tua vita precedente poi ho capito ho capito e deri una modella è un anno modella in posa per tuo marito quindi era tuo marito che ti dava ti guardava ecco in questo senso e ho visto una california spagnola però del intorno al 1700 eri una donna molto 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 amata e tuo marito proprio ti usava come modella ma quasi più come una venerazione no ecco più che non è un discorso di modella stessa proprio una venerazione grazie Domenico di questo feedback mi sentite bene perfetto e questo è quanto come vedete sono molto a flash veloce perché giustamente ogni flash produce ogni flashback produce al medium in questo caso ma è un notevole consumo di energie no ecco quindi vado a piccoli flash in maniera da poter fare più persone possibili senza però nello stesso tempo egoisticamente stancarmi troppo ok e sbagliare peggio ancora ciao Silvia ciao e detto questo andiamo da che nome Annina streghetta Ranfi allora Annina ho visto che eri una donna di un fashion di un'eleganza incredibile ho sentito questi questa stoffe molto molto leggere velate e ho capito che eri in un harem però quindi non è piaciuto tantissimo questo mio vedere perché insomma l'harem per noi donne non è cosa fatta ecco è vero però che tu sei riuscita a vivere o sei riuscita a percepire che tu riuscivi a vivere a vivere in un nel tuo mondo ok però avevi bisogno alla fine di concretezza cioè di non stare a sognare di vivere fuori ma di attuarlo non so se ce l'hai fatta in quella vita che sono rimasta così col punto interrogativo quindi vivevi in un altro mondo ma era un mondo fatto di sogno in realtà tu volevi invece la tu volevi invece la praticità cioè viverlo davvero ok quindi Annina molto bella un grandissimo fascino chissà se magari ti è rimasta anche in questa vita chissà però ecco il fatto di sognare molto e di non avere la concretezza è stato insomma un po' difficile ok questo per Annina streghetta ranfi eccola qui oh mi hai fatto una faccia oh grazie grazie anche voi siete belli Consuelo di Cortis ciao Dani Consuelo di Cortis Luciana Senno Luciana Cristallo Nicoletta non riesco a collegarmi puoi provare a entrare ed uscire perché abbiamo tanti problemi in questo periodo con internet perché tante persone sono collegate ecco e ti ringrazio Annina di questo feedback finalmente agisce meno male perché non ho visto la fine cioè non ho visto poi se in questa donna sei riuscita poi a scappare da questo are non ne ho idea sono rimasta col punto interrogativo purtroppo sono contenta che in questa sei sempre sognatrice però almeno sei riuscita a trovare la tua concretezza bene allora dicevamo che siamo andati da Consuelo de Cortis ok Consuelo io ti ho visto calcola che non sono brava in storia però a grandi linee un'epoca del 400 non il 1400 ho visto i barbari proprio nel vero senso della parola ti ho visto che tu eri un soldato e la tua arte era certo nel combattere però ho visto che quando eri in pericolo tu diventavi calmissimo una cosa incredibile cioè nel momento del pericolo eri calmissimo il nemico giustamente vedendoti così calmo abbassava la guardia ovviamente e tu cosa facevi? zac! è in quel momento che tu lo ammazzavi quindi mamma è brutto da dire perché nell'epoca lo sapete che ci sono state molte guerre quindi mi spiace che tu dovevi far questo soprattutto uomo però è vero anche che questa tua abilità nel rimanere calmissimo di fronte al forte pericolo ma nel ragionare ha fatto sì che tu sei poi salito veramente di grado quindi sei riuscita a conquistare tanto ok? ciao Liliana ciao Maria Caterina ok siamo da Eliana Resaglio Loi spero di aver pronunciato bene ok allora Eliana o Eliana Eliana dunque ho visto che eri in una casa bella tieni in conto un inizio del novecento comunque sai quelle case inglesi tipiche dell'Inghilterra inglesi direi ci scambiamo Maria Caterina i complimenti oggi anche io dicevo tu eri bellissima oggi mamma mia sono rimasta incantata da quello che tu hai detto riguardo al a rapportarsi e mi è piaciuto molto il tuo discorso Maria Caterina l'aiutare le persone a cercare di vederlo sotto diversi punti di vista quando si tratta di dover ascoltare e parlare con altre persone che non la pensano come te grazie ancora allora ti dicevo Eliana Resaglio Loi che eri una donna dell'inizio del novecento in questa casa sembrava Inghilterra ecco una casa colonica inglese ho visto che scrivevi dei romanzi letteralmente dei romanzi e hai sofferto molto perché hai avuto in questa vita che ho visto tante delusioni e ti è mancata anche tante persone ok sei riuscita comunque a resistere ai duri colpi del destino ok maturando un'esperienza in questo senso è brutto da dire però con tutto quello che hai subito hai invece potuto avere esperienza e di questa esperienza poi hai scritto dei romanzi ecco quindi hai fatto di necessità una virtù nel vero senso della parola molto bella ok andiamo da Stefania Stefanucci ok allora Stefania ci siete sì Stefania ho visto che eri una donna che eri nel sud del Brasile intorno a un 1800 la fine forse però visto che da una più attenta visione ho notato Stefania che eri emigrata in Brasile però tu sei riuscita a dare il tuo e hai insegnato alla gente del posto insomma tutto quello che erano le tue tradizioni dato che eri anche molto molto simpatica sei riuscita malgrado non eri bellissima ad avere tanti spasimanti hai vissuto quindi un grande amore perché hai avuto anche l'opportunità di scegliere e di questo grande amore ti ha reso perché era un grande amore perché ti ha reso indipendente e non sotto tuo marito quindi diciamo Stefania una vita secondo me molto bella anche se è d'immigrante quindi dispiace un po' che manca la tua terra no? però vabbè come sta andando? mi piacciono queste cose sono belle vero? io mi sono piaciute molto anche perché l'ho vestito sulla mia persona e mi hanno aiutato molto a comprendere anche la mia vita attuale peraltro e quindi visto che hanno aiutato tanto me io mi sono autovista a dire la verità allora ho pensato che potevano far piacere anche alle altre persone allora andiamo da Kate Beskin allora Kate siete sempre in diretta sì? ok ok tanto vi guardo perché ho paura di perdere la legna Kate Beskin lo rifaccio adesso che siete in 53 circa ve le dico già che metterò il post domani di nuovo per un'altra diretta che farò sempre sulla stessa tematica mercoledì 6 ok perché siete veramente tantissimi mi avete mandato più di 200 foto e quindi giustamente ho piacere di rispondere anche agli altri che non ho potuto mettere qui in questa diretta ho dovuto scegliere ne scelgo al massimo 40 quindi di 200 figuratevi ok Kate Beskin cosa dovevo dirti dovevo dirti che eccola lì ciao che carina ho visto che eri una ho visto una cosa un po' particolare Kate di dirti la verità ho visto che eri una donna francese popolana dell'epoca tipo della cos'è della rivoluzione francese per darti l'idea dato che c'era tanta fame ma tu eri veramente tanto bella i tuoi ti volevano far sposare un vecchio proprio per soldi ok il classico vecchio ricco tu però sei stata molto fedele ai tuoi principi questa è una cosa che mi è piaciuto molto e hai fatto una scelta che detta così sembra brutale io invece l'ho trovata molto molto giusta per l'epoca perché ti sei gettata nella senna quindi piuttosto di andare contro i tuoi sentimenti ed eri costretta assolutamente ti hanno proprio costretta hai preferito lasciare andare la tua vita ok ad alcune dico già me lo ripeto ci sono dei flash che sono molto lunghi con tante descrizioni ad altri invece sono velocissimi non so perché dovete chiedere quelli dell'oltre perché mi danno poi i flash Giorgia De Rossi allora Giorgia De Rossi ho visto che eri un uomo molto bello vestito di sul bianco bianco panna in una spagna era una città sul mare nel porto ho visto che tagliavi i pesci i pesci con il coltellino e poi lo mangiavi crudo vabbè dirai all'epoca magari si poteva anche fare se lo fai adesso ok benissimo grazie grazie nina grazie di questo feedback spero bene che non ti sia capitato aspetta una donna in un'area ma adesso ci mancherebbe altro noi donne nel 2000 passa avremo lì andiamo a uccidere qualcuno se fanno fare del genere ok dicevamo Giorgia De Rossi ti dicevo io sono un uomo molto bello e ti ho visto quindi che mangiavi questo pesce sul porto con questo coltellino piccolino lo mangiavi crudo proprio tagliato e mangiato da cosa orribile da vedere e guardavi con questi occhi bellissimi l'orizzonte visto che stavi guardando l'orizzonte il mare il tramonto e ovviamente il porto però guardavi con ammirazione questo punto perché eri molto interessato a sapere cosa c'era di là perché all'epoca non si sapeva cosa c'era di là anzi si aveva molta molta paura dicevano che l'aldilà era la fine del mondo e quindi nessuno andava a vedere oltre no? ovviamente e quindi Giorgia ho visto questa cosa qua tu volevi sapere volevi sapere cosa c'era di là ok? Antonella Cocco allora Antonella Cocco anche tu ti ho visto uomo ho visto che eri un uomo arabo e ho visto che guardavi le stelle infatti ho detto boh guarda in alto vabbè invece no non stavi guardando le stelle stavi osservando il fermamento nel senso che tu eri una sorta di astronome dell'epoca un astrofisico dell'epoca quale epoca diciamo che era prima di Cristo non ho visto attorno a me nessun segnale che mi faceva benché minimo pensare al cristianesimo quindi ho pensato che fosse un'epoca prima di Cristo ed eri un uomo molto intelligente di una grandissima cultura ovviamente per esplorare le stelle all'epoca eri veramente straordinario andiamo da Maggie 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 Baldino scusate la pronuncia del nome ciao Simonetta allora Maggie Maggie spero di pronunciarlo bene Maggie boh vabbè mi direi tu poi allora Maggie ho visto che eri un acrobata un comico acrobata circense dei primi del novecento ho visto che eri portoghese l'ho visto dai colori dal verdone delle tue divise però come girovago come gitano come zingaro però zingaro circense hai girato poi tutta Europa per fare spettacoli quindi sicuramente ti sei divertito e hai divertito le persone ok molto bello direi andiamo da Maria Grazia Catellani Linda Cipriani scusate sto leggendo ogni tanto connessione zero niente ma mi vedete sì riuscite a vedere un pochettino grazie del feedback sono importanti Maggie scusa abbi pazienza Maggie non me ne volere Linda Cipriani noi qua stiamo trattando il tema delle vite precedente e rispondo alle persone che si sono sono riuscite a prenderli in sorteggio a un post che ho fatto qualche giorno prima sulla tematica giusto per darti attenzione che dice ma qua perché non mi dici nulla per questo allora Maria Grazia Catellani oh Dio Maria Grazia guarda ho visto che eri una sorta di suora delle prime suore in Umbria ai tempi di San Francesco quindi tieni conto Santa Chiara ok solo che ti ho visto che discutevi sempre eri sempre 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 e questa tua voler sempre discutere ogni cosa ti ha poi portato a una sorta come di clausura quindi eri se ti hai sentito la vocazione in realtà non era una suora di clausura ma ti hanno come portato perché la tua era una una discussione continua quindi non non si faceva vita spero che non sia più così come vedete ad alcuni faccio veloce alcuni no dipende tutto bene ma scusami davvero scusami col nome se ti vedo bene ok a posto bene bene eh sì magari provate a entrare a uscire perché proprio sono le connessioni che vanno e vengono è una roba che non si può non si può vedere eh sì allora dunque andiamo da Rita della Manna Rita della Manna ecco qua che noi abbiamo visto eh che era in Cambogia tipo l'ho visto nei tempi sai quei tempi con tutti allungati con con proprio il tetto lungo lungo non so come si chiama in storia scusatemi e bellissimo i tempi bellissimi ti ho visto adorare il culto che c'era in questa Cambogia ovviamente forse prima di Cristo una cosa antichissima e ti ho visto come sacerdotessa ti ho visto ovviamente tutta imbardata di sai quelle quelle le collanine i braccialetti però erano tutti non un braccialetto d'ornamento erano proprio i braccialetti che significavano qualcosa avevi anche degli ornamenti sulla fronte e ogni ogni cosa era comunque un simbolo molto molto bello abbiamo adesso Cristina mi hai lo io mi hai lo io mi hai lo io adesso vi faccio ridere perché vabbè arte gotica grazie è incredibile però avere un è vero ti confermo meglio che il dialetto genovese perché sono in Liguria il dialetto genovese è quasi identico al portovese sì grande bene non ti sei spostata di una virgola in questa vita incredibile e niente non riesco a pronunciare il nome però va bene allora Cristina Mihailoiu ho visto la Grecia intorno a un 1500 l'epoca era una civiltà minoica ecco ho visto i templi ho visto che tu eri nel pieno delle tradizioni ho visto anche per te i culti però il culto diciamo come tradizione eri molto Ligia queste tradizioni in quel giorno bisognava mangiare questo in quel giorno bisognava fare quello in quell'altro giorno bisognava fare quell'altro cioè diciamo una una civiltà era in una civiltà Cristina in Grecia che era molto molto sentita da un punto di vista di collegare quello che devi fare con la vita di tutti i giorni ecco una cosa molto molto forte secondo me la ciderbola tantissimo ecco ah ecco ho notato una cosa strana Rita della manna non so se voi mi vedete non so se mi vedi Rita della manna se puoi darmi un feedback perché ho visto Davide Vernacchio nella stessa Cambogia nella stessa parte tua però lui era intento a costruire delle canoe per andare nelle nelle isole della Cambogia era una specie una sorta di navigatore piccolo per gli spostamenti lui curava veramente quello che era la i mezzi di navigazione tra un'isola e l'altra della Cambogia ed era nello stesso periodo Rita della manna ok quindi una cosa un po' particolare questa allora Maria Galliano sta facendo questa diretta sulle vite precedenti che però viene incentrata sulla base di un post che ho messo tempo indietro qualche giorno fa nella quale vi chiedevo la foto e la data di nascita ho scelto 40 persone a random e alle quali ho dato risposta come sto rispondendo adesso qui in diretta rispondo una persona per profilo e non rispondo alle persone che mi chiedono anche per i parenti o gli amici per dare questo spazio agli altri ecco tutto qui rifarò un'altra diretta di questo tipo essendo tantissime le ricreste mercoledì questo mercoledì quindi metterò di nuovo il post domani vi chiedo se volete se siete interessati di rispondermi al post e non in privato mettete la vostra foto la rimettete di nuovo ecco vedete un po' ok eravamo rimasti a Davide Vernacchio come ti dicevo Davide c'è questa tu costruivi queste canoie ma al tempo di Rita della Manna stesso posto quindi sempre in Cambogia grazie del feedback Cristina andiamo a Domenico Sabatini che ho visto prima allora Domenico ho visto che eri in una foresta che poi all'inizio quasi quasi mi veniva da cantare perché poi devo anche stramatizzare ogni tanto quello che sono le mie visioni anche perché tutte le epoche passate sono caratterizzate altro che epidemie c'era di tutto nell'epoca passata e non c'erano i medicinali che ci sono adesso tra l'altro e ti ho visto in una foresta e quindi mi veniva in mente la foresta di Nottingham quella di Robin Hood vabbè c'avevo la canzoncina di Walt Disney tornando a nome un po' più seriamente Domenico Sabatini ti ho visto in questa foresta quindi una sì una foresta tipo quella appunto veramente della di Robin Hood e ti ho visto tracciare il percorso letteralmente tracciare il percorso tu tracciavi le strade per le carovane ecco dell'epoca eccoti Domenico eccoti quindi ecco tracciavi le strade eri una sorta di mappologo come si può dire un mappologo non di coste ma bensì di sentieri dell'epoca medievale ovviamente sento ho sentito molto l'umidità moltissimo ho sentito il tuo respiro dietro questo questa imbardatura che tu avevi sopra la bocca di lana durissima ed eri molto attento eri molto bravo a fiutare tutto Domenico tutti i sentieri fiutavi anche ovviamente la selvaggina quindi lo sapevi già Rita che eri in Asia in una vita precedente bene bene di Davide ecco ok ok bene grazie grazie Rita grazie di questo feedback e quindi ti dicevo Domenico ho visto questa questa imbardatura con della specie di lana grezzissima e ti sento respirare perché è proprio freddo è un gran freddo Domenico e questo è quello che ho visto questo flash andiamo da Simone Perella un altro uomo però questa volta ti ho visto donna allora Simone ti ho visto donna ho visto una California del secolo scorso ho visto che eri molto giovane e che usavi dei ciottoli dei sassolini tipo per vedere il futuro non credo che siano rune perché non ho visto le rune era un proprio era una tua forma particolare di riuscire a estrapolare il futuro in queste in queste posizioni dei ciotolini ecco come chi guarda le nuvole eccetera eccetera quindi l'ho visto così Simone più che altro il fatto di averti visto donna quindi credo che tu abbia una sensibilità molto sviluppata da questo punto di vista non che Domenico Sabatini non ce l'avesse intendiamoci ci mancherebbe altro dicevo ecco che comunque essendo stato anche donna Simone ha una leggera sensibilità verso la donna stessa ecco tutto lì ok prego bene andiamo da Mimma Prete Mimma Prete allora Mimma io ho visto una cosa anche lì un po' particolare siete tutti la maggior parte particolare però perché ho visto che tu avevi una grandissima rabbia dentro di te no uomo eri un uomo però eri troppo rabbioso Mimma Prete troppo eri talmente rabbioso che per riuscire a reprimere la tua rabbia ti hanno fatto diventare un monaco buddista un'epoca lontanissima siamo in Tibet e ho visto che sei diventato un grande maestro perché dalla tua rabbia controllandola tu sei poi riuscito a imparare e a diventare veramente un maestro di insegnamenti molto molto grande ok andiamo da Francesca Angeli allora Francesca tu ho visto Geisha una Geisha giapponese eri molto ricercata eri molto amata perché comunque eri molto brava come Geisha proprio in quello che erano le tradizioni in tutto quello che poteva essere il lavoro di una Geisha eri molto invidiata anche dalle altre donne a Geisha anche loro ma tu però volevi solo essere libera quindi non te ne fregava proprio niente di essere o ricercata o molto amata tu volevi solamente essere te stessa e soprattutto libera questa è Francesca Angeli ok vi date un feedback se mi vedete perché come sempre la diretta va e viene quindi spero sempre che opla ci siete ancora sì mi sono mossa ok spero che riuscite a vedermi bene andiamo da Alison Giacomi ho visto un 1900 circa ho visto San Pietroburgo grazie ok ho visto San Pietroburgo ho visto dei teatri bellissimi tutti comunque San Pietroburgo lontanissimo ha detto ma cos'è e poi dopo t'ho visto e quando t'ho visto ho capito eri una ballerina del balletto proprio russo ok quindi giravate nei teatri più prestigiosi una ballerina molto semplicemente non ho visto altro credo che questa tua passione che magari tu non hai neanche adesso perché di solito le ballerine quando io ho visto ballerine o ballerine nel passato le ho visto con talmente tanti sacrifici che nella vita dopo nelle vite precedenti ok grazie Sania non non amano proprio il ballo non gli frega niente assolutamente ok quindi non è detto che vi debba per forza corrispondere o ricordare qualcosa in questa vita ok non è detto sono anche perché noi abbiamo tantissime vite e io di flashback ne vedo poi solo una così è in diretta ecco poi vabbè in privato ce ne sono tante altre ma non è questo che dobbiamo guardare oggi analisa lo monaco che ti ho visto prima mi fa ridere mi ma prete il tuo feedback quando ho conosciuto il mio marito gli ho detto che non potevo stare con lui perché mi volevo fare monica ma poi ci ho ripensato e l'ho sposato meno male grazie a Dio e di quella diciamo per i nostri spettatori mi ma prete era quella che per reprimere la rabbia i suoi genitori l'hanno fatta diventare un monaco buddista e è diventato un grandissimo maestro in un'epoca molto lontana del Tibet ecco però è stata una costruzione che invece adesso non è più avuto grande analisa lo monaco che ti ho visto eccola qua analisa allora sappi che io ho visto una donna molto molto magnetica avevi la capacità di saper muovere le energie eri molto potente ed eri una sovrana africana ci ho visto l'Africa però ti ho visto come regina africana perché questo perché proprio tu riuscivi a fare a parte col viso di molto magnetica e tu riuscivi a adesso ti metterai a ridere però per darti l'idea sapevi muovere l'energia di quello che poteva essere un'epoca lontanissima che non si sapeva niente quindi se tu facevi la danza della pioggia pioveva se tu mandavi brutto da dire una maledizione a quel nemico del tuo popolo questo finiva ok avevi comunque avevi un il tuo sposo però avevi anche tanti amanti c'eri proprio veramente una sovrana africana ma molto 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 potente bella questa Teresa Campioni allora Teresa Campioni ho visto una Roma prima di Cristo eri quindi una nonna Patrizia per fortuna però avevi i tuoi figli che erano sempre in guerra perché Roma doveva conquistare quindi sia tuo figlio che tuo marito erano perennemente in guerra tu veniva tuo marito tu continuavi ad avere figli però poi questi figli andavano sempre in guerra insomma comunque non tornavano quindi insomma ha fatto una vita un po' sì che eri ricca sì tutto quel che vuoi ma in realtà gli effetti poi ti sono mancati ecco in questa vita andiamo da Roberta Bonetti oh Roberta Bonetti che bello hai presente Heidi ecco io ho visto una sorta di Heidi quindi una Svizzera del 1800 ti ho visto nella fattoria ti ho visto ho visto le pecorelle ho visto i cavalli ho visto i ruscelli ho visto delle bellissime montagne ho visto tanta 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 pace io ho visto una vita molto serena molto tranquilla e donna molto pura una vita molto molto pura non segnata da da niente anche perché tu vivevi in mezzo alla natura in mezzo agli animali che quasi vegetariana ti direi perché non ci erano tanti ma non non li amazzavi assolutamente per mangiare quindi è una cosa molto molto bella specialmente per l'epoca adesso sarebbe quasi tra virgolette normale invece l'epoca andiamo da Silvia Di Giulio da Silvia Di Giulio ho visto un Vietnam Vietnam sì prima della dominazione cinese quindi il 39 dopo Cristo e ho visto che eri un guerriero vietnamita quindi una persona di una di una grande forza di una grande potenza no però non ho visto altro quindi immagino che tu sia stato molto giovane perché ha avuto questo sprazzo poi è finito tutto e quindi c'era un guerriero le sorti poi sono quelle Silvia andiamo da Paola Savelloni invece per te ho visto che eri una donna davvero vivi tra i monti bello ma dei monti Roberta anche Svizzera chiedo per curiosità era così bello quello della Svizzera vabbè comunque Paola Savelloni ho visto che eri una donna indiana una sciamana neri senza figli e hai deciso di non sposarti ma di dedicarti alle attività sciamaniche per il benessere del tuo popolo assolutamente quindi ti sei proprio votata per andare in contatto con la natura con gli spiriti ovviamente delle credenze indiane del popolo indiano per il tuo popolo ancora vivi a Roma c'è derbo non ti sei spostata di lì però bene allora allora Paola Savelloni stavamo dicendo ho visto adesso che ti sei collegata che eri una donna indiana sciamana indiana nel senso non indiana dell'India indiana tipo indiana d'America e essendo molto votata per il tuo popolo con i tuoi riti sciamanici hai deciso di non sposarti di non aver figli proprio per dare al tuo popolo la maggiore attenzione possibile ok nei suoi rituali in tutto proprio anche perché dovevi stare tanti giorni nelle nelle tende non era facile ecco quindi hai fatto questa scelta Lella Biffi dice puoi farmi la doretta con il mio videoprofilo grazie no ti dico già no no io prendo solo le foto che ci sono nei post che vedo devono essere foto primo piano senza occhiali da sole che vi potete vedere bene ecco chi non vuole mettere la foto molto semplicemente non può ecco vabbè detto questo andiamo da Claudia ho visto che eri un uomo un uomo colombiano intorno ai 1500 eri nell'epoca della colonizzazione però tu eri molto fermo Claudia nelle tue tradizioni quindi malgrado c'era questa colonizzazione tu non 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 andavi non ti volevi mischiare perché per te la tua persona era più importante di tutto la tua tradizione voleva dire la tua famiglia e quindi non hai cambiato andiamo da Cristina Pardi scusate adesso devo parlare velocissima perché siete ancora un po' e volevo dirveli tutti Cristina Pardi tu eri molto che fra l'altro l'abbiamo visto da poco Pirata dei Caraibi ecco io Cristina Pardi consiglio di rivederlo perché tu eri sta molto stufa della monotonia della tua vita e ti sei unita ad un corsaro e sei andato a vivere nelle Barbados quindi addirittura hai fatto un cambio di vita Cristina pazzesco per l'epoca perché negli agi di una bella villa e di uomini affettati molto lord tu hai preferito andare con un corsaro e andare a vivere veramente alle Barbados dove non c'era veramente niente Sonia Dalbo Sonia Dalbo invece ho visto che eri una donna tedesca con marito e figli impegnati nella guerra napoleonica e quindi sei vissuta con sei riuscita a vivere con questa preoccupazione di avere marito e figli in guerra però col fatto di avere onore di avere messo al mondo e aver sposato degli uomini veramente che facevano il benessere della tua gente ecco perché proteggevano il tuo popolo in realtà però poi hai sofferto molto perché sono mancati tutti quindi non è stata proprio la guerra proprio no ecco Sonia se posso devo dire proprio no la guerra intesa per proteggere no proprio la guerra per se stesso no per te non è più andata bene questo diciamo è stato quello che ho visto verso la fine della tua vita Simone Lord Paduano allora Simone Lord Paduano ho visto che era impegnato nelle crociate c'è da dire però che questa religione poi anche la mia che troppo 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 dolore ti ha convertito poi alla non violenza quindi da un soldato crociato impegnato nella lotta cristiana se ti sei poi convertito alla non violenza andiamo da Barbara Strocchi ho visto che eri la classica madonna fiorentina quindi nell'epoca del rinascimento ho visto queste stoffe rosse purpure anche addosso a te e direi la vita della classica madonna fiorentina ecco con Palma San Felice ho visto una comunità religiosa del 500 che poi ho visto che ti sei stabilita in America non riuscivo a capire i vestiti tutti uguali ho fatto delle ricerche poi ho capito eri un amish per Sabrina Meriggi invece eh sì non sempre noi dobbiamo purtroppo abbiamo vite che ci piacciono vite passate eh sì per Sabrina Meriggi ho visto un uomo nell'epoca bizantina ho visto che facevi dei mosaici molto molto bello quindi ti consiglio magari ad andare a Ravenna andare a vedere un po' che forse lo ritrovi questo no? Luciana Cristallo ho visto che eri un uomo medico un medico dell'epoca prima di Cristo no? quindi quelli che fanno tutti medici dentisti e tutto eri israeliano israele proprio ed eri un uomo molto molto bravo come medico andiamo ora da Patrizia Magnano anche tu ho visto uomo ho visto che eri spagnolo ho visto che eri un viaggiatore per mare ma commerci e veri intorno al 1600 si è sempre stato libero e ho sempre voluto essere libero sì Simone Lord Paduano si è stato letto andiamo da Virginia Ferrante sto andando veloce scusate non posso riprendermi con voi perché se non finisce la trasmissione alle 19 e non riesco a finire gli ultimi 4 allora Gennaro Napolitano no scusate Virginia Ferrante ho visto che eri in Madagascar ho visto il mare ho visto l'isola ho visto i fiori ho visto molti profumi quindi penso che il colore e il profumo è sicuramente una cosa Virginia che ti è rimasta anche in questa vita perché l'hai vista davanti per tantissimi anni hai avuto una vita molto lunga in Madagascar malgrado l'epaca ovviamente di tantissimi secoli e secoli fa allora andiamo da Gennaro Napolitano ho visto molto semplicemente Gennaro che eri un sciamano indiano ho visto due di sciamani una donna e uno un uomo vabbè un sciamano indiano ho visto che tu eri capace di attirare le persone e allontanare le altre sei stato troppo impulsivo con chi non ti andava genio e per questo sei stato poi spodestato avevi un caratteraccio ecco per la precisione un vero caratteraccio però è sempre uno sciamano indiano Silvana la regina ho visto ti ho visto suonare dei tamburi in un'epoca antichissima nel Sudafrica per calmare le forze del mare quindi una sorta di di suono per aiutare le le energie buone ecco Tonia Tesse Tonia Tesse ho visto per te una vita molto difficile e molto tormentata anche tu ho visto che costruivi sentieri in posti impervi e pericolosi in Cina all'epoca dell'impero Ming ma eri molto tormentato come uomo non eri per niente felice e ho avuto una vita molto molto difficile le ultime due Alessandra Boccanera eri un uomo importante ho visto un leader nella rivoluzione francese peccato che tu fossi gay e all'epoca non andava bene quindi tutto il bene che tu hai fatto nella rivoluzione sei poi stato tutto vano a causa della tua identità sessuale diversa ecco purtroppo Roberto Spacesi ecco Roberto tu sei l'ultimo ho visto uno scultore del rinascimento solo che tu vedevi Roberto solo poi il lato esteriore no di tutto appunto come fanno gli scultori solo dopo un brutto incidente però tu sei cambiato e hai visto hai cominciato a vedere l'interno delle persone e hai cominciato a dipingere l'interno delle persone ciò che vedevi di bello non ti interessava più l'esterno Roberto quindi alla fine che cosa hai fatto alla fine hai fatto quello che tutte le persone fanno quando cominciano a guardare dentro e quindi ti sei innamorato e hai fatto dei figli ecco qua io qua ho concluso signori volevo dirvi che per alcuni la vita precedente può essere stata bellissima per alcuni non ci si trova niente per altri assolutamente non hanno nessun ricordo per altri invece sì quindi va molto ad persona noi abbiamo tantissime vite precedenti solo che in questa diretta io cerco di vederne poi ne vedo una sola anche perché i tempi della diretta sono molto pochi quindi io metterò perché siete stati più di 200 che mi avete inviato le foto quale richiesta scusate la voce ma mi capirete no e quindi io adesso domani metterò un altro post sempre sulla tematica delle vite precedenti come per questa vi continui a scolpire io spero Roberto però che se tu continui a scolpire però possa riuscire a vedere anche dentro ancora come hai fatto poi nella vita dopo l'incidente che hai avuto nella vita precedente che parliamo scultore del rinascimento e per concludere ecco vi dicevo io domani metterò questo post come sempre vi chiederò di indicarmi la vostra foto e la vostra data di nascita se volete avere un risponso si dice così in gergo sulla vostra vita precedente che sarà poi detta in diretta mercoledì sempre alle 18 vi chiedo gentilmente a tutte le persone a cui ho già risposto di non chiedermi per i figli parenti amici perché ho piacere di dare spazio anche a chi non ha mai avuto risposta chi vuole invece approfondire la tematica chiedermi altre cose essendo io una viaggiatrice a sale può contattarmi per un consulto privato altrimenti io vi ringrazio vi auguro allora un buon proseguimento noi ci rivediamo allora mercoledì sulle vite precedenti e poi venerdì invece alle 18 faremo questa bellissima diretta con Anna Maria Squeri e parliamo con Gianluigi che è suo figlio nell'oltre in cui io sono sono molto molto amica anche se nell'oltre ci parliamo come se fosse qua insieme a noi io vi ringrazio di questa attenzione vi auguro allora un buon proseguimento e tra poco anche una buona cena grazie a tutti arrivederci grazie a tutti grazie a tutti